Dopo i disordini nell'aula consigliare, verificatisi martedì e provocati dalla discussione accesa sul suolo pubblico, mercoledì la riunione si è svolta con toni più sereni e concilianti da entrambe le parti politiche. La mozione di Franco Calvia sulla modifica delle altezze dei fabbricati nelle zone B2 è stata ritirata in attesa che venga presa una posizione chiara nel PUC. Stessa decisione da parte di Matteo Tedde per il fondo di solidarietà già previsto nella finanziaria 2008. Tre interrogazioni poi discusse in aula nell'ordine le osi canine, i servizi cimiteriali e i campi polivalenti, quest'ultima bocciata da parte della maggioranza.